Ciao, questa mattina parliamo di taniche. Ecco qui una nuova serie di taniche appendibili. Come puoi vedere sono molto sottili, le puoi appendere sul veicolo in questa posizione sull'esterto, all'interno del veicolo o anche sdragliate sulla bagaliera. Il fissaggio viene fatto con queste staffe, qui manca la staffa posteriore, insomma immagina che c'è, questo si fissa al veicolo, la metti in questa posizione, fai entrare la tanica, giri e si blocca. Eccola qua. Esiste anche questa versione dove abbiamo tolto la serratura per farla girare, ma in questo caso si blocca con una chiave. Vedi che sono di corpi diversi, questa blu è una tanica certificata per alimenti, quindi normalmente per l'acqua, questa nera è una tanica certificata per carburanti, quindi benzina e gasolio. La particolarità di queste taniche sta nel tappo, che è uguale per tutti. Adesso ti faccio vedere. Si blocca automaticamente, lo sblocco appiggiando qui e svitando. Dopo che è svitato esce il travasatore, che puoi utilizzare direttamente sulla tanica. La cosa ancora particolare di questo prodotto è che quando hai finito, rimetti dentro il travasatore e chiudi il travasatore con un tappo apposito, per evitare che gli odori contenuti all'interno della tanica possano dar fascino all'interno dell'abitacolo. Altra cosa molto importante. Allora, te lo faccio vedere in modo più chiaro. Ci salgo sopra, ma non solo, vi metto anche a saltellare e come vedi non c'è la minima flessione sulla tanica, quindi una robustezza incredibile. E ancora, queste taniche sono rapponibili, quindi ne puoi mettere quante ne vuoi, una sull'altra, e grazie a queste sagomature si incastrano una con l'altra.